Il modello è quello di due città del Veneto come Treviso e Verona. La base di partenza però per cercare una via di fuga all'annosa questione della raccolta di fiuti è quella del dialogo e non dei botte in risposta su stampa e social. Il circolo di Margherita di Savoia di Lega Ambiente prova a vestire i panni di mediatore nella querel legata alla raccolta di fiuti. Questione che sino ad inizio del mese di agosto rischiava di trasformarsi in emergenza sventata con la firma del contratto d'amministrazione comunale SIA sino al 31 dicembre di quest'anno e sulla quale è ancora lontana la completa soluzione. A giudizio di Lega Ambiente è necessario avviare un confronto sinergico per trovare una soluzione che possa consentire una svolta nella raccolta differenziata a Margherita di Savoia. Intanto gli ambientalisti salinari un paio di soluzioni le offrono al dibattito. Nel primo caso si prende ad esempio la provincia di Verona dove grazie ad Esacom si è raggiunto l'80% di raccolta differenziata attraverso tre direttive. Riduzione al minimo dei passaggi dei mezzi per la raccolta, campagne di comunicazione ambientale e sensibilizzazione rivolte ai cittadini con particolare attenzione alle scuole, tariffa puntuale a svuotamento della frazione organica. Un secondo esempio citato da Lega Ambiente è quello della città di Treviso dove la novità è legata all'ecobus, servizio di raccolta che funziona come un vero e proprio autobus e l'ecostop, particolare mezzo che staziona per un'ora in punti fissi prestabiliti per raccogliere tutte le tipologie di rifiuto. Ma anche i cittadini e i turisti nel caso di Margherita di Savoia devono fare la loro parte al giudizio di Lega Ambiente che invoca un vero e proprio servizio di sanzionamento per chi abbandona i rifiuti non differenziati per strada, introducendo anche il servizio di videosorveglianza.